Più che soddisfacente il bilancio della Puglia nella terza prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi disputata a Baronissi con oltre 500 atleti in gara provenienti da 5 regioni diverse, Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria. Due vittorie nella sciabola con Martina Giancola del club Scherma Sansevero ed Emanuele Acquaviva della Scherma Trani e due nella spada con Ginevra Mangè dell'Accademia Scherma Lecce e Raffaele Colaci delle Lame Azzurre e Brindisi. Due secondi posti nella sciabola con Pietro Gianni Mastrolitto e Davide Cicchetti, entrambi del circolo schermistico Dauno e due nel Fioretto con Michelangelo Ottomanelli del club Scherma Bari e Giada Russi del circolo della Scherma Brindisi più altri 9 piazzamenti sul terzo gradino del podio.